L'Istituto Comprensivo Santa Croce si appresta ad offrire ai suoi utenti un edificio nuovo di zecca. Se le scadenze saranno rispettate, entro dicembre 2015 questo vecchio edificio, che dagli anni 60 ospita infanzia e primaria in via Kennedy, sarà abbattuto e ricostruito secondo le nuove norme di sicurezza. Il Comune di Sapri è riuscito ad ottenere 3 milioni di euro dalla Regione Campania per realizzare la nuova struttura, che si svilupperà su due livelli e si collegherà al vicino edificio della scuola media. L'idea di avere delle scuole nuove, come spazi nuovi nei quali far crescere i nostri ragazzi, anche con l'adeguatezza di questi spazi, a queste nuove esigenze, nuovi laboratori, maggiore sicurezza e poi una scuola che possa diventare anche uno spazio dove fare altre attività nel pomeriggio, cioè un vero campus. Un punto è certo, la Regione ha posto come vincolo per tutti questi appalti la conclusione dei lavori per dicembre 2015, quindi ci sarà un programma di lavori molto intenso, molto frenetico e vedremo in che modo poter dare risposta, ovviamente, ponendo come ultima delle possibilità l'ipotesi del doppio turno, ma siamo fiduciosi di poter trovare soluzioni che consentono la realizzazione dell'opera e il mantenimento delle attività didattiche. In primo luogo un ringraziamento va all'assessore Pino Ricciardi che ha preso lui il coordinamento di questa iniziativa e insieme con le strutture comunali ha fatto sì che in tempi velocissimi avessimo un progetto esecutivo ed approvato dalla sovrintendenza. Questo 2014 potrebbe portare buone nuove anche per la primaria dell'istituto comprensivo Dante Alighieri. L'idea del comune è di chiudere per sempre l'edificio in via Crispi e realizzare la nuova scuola vicino alla media, creando anche qui un campus scolastico di qualità. Il progetto preliminare sta circolando tra le varie commissioni e a breve dovrebbe diventare definitivo. A sperare nella realizzazione dei due nuovi edifici scolastici sono soprattutto le famiglie preoccupate delle condizioni in cui versano entrambe le strutture ormai datate.